già sto filmando,mira questa araña wow l'arancola l'arancola che passa se questo te pica che te... m-mata il pezzo mata ufff si pone al libro ahi tomalo, ahi tomalo ah,mira che tal' arancola wow questo è un mio paio in Perù uno dei molti cose che possono ufff 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 questo è un peccato questo è un peccato mio uomo dice ma non è niente,i dormo con i miei e gli dice ufff 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 ufff